Gentilissime amiche ed amici, una grande proposta. Tante di voi ci hanno chiesto le trapunte per i letti dei vostri figli e delle vostre figlie. Quindi o singole, ovviamente. Questa qua è una delle più grandi marche, bellezza di colore, un puro cotone, super imbottita. Pensate che ogni trapunto di questa qua si vendeva oltre i 60 euro. Oggi voglio vedere se ci state. Come vedete già vi appaiono i quattro colori a disposizione. Io voglio vedere se ci state, veramente è un grandissimo affare. Ogni trapunta super imbottuti a doppia faccia. Vai col prezzo, vi faccio vedere poi da vicino tutti i colori. Eccolo qua, offerte frutta. Andiamo a vedere colore per colore. Pensate, due trapunte, 55 euro per letto singolo. Questa casa, ma che casa? Una casa che si vendeva, vi ho detto, 60 euro al trapunto. Oggi questa è quella, in azzurra. Vedete, puro cotone al 100%. Vedete, super imbottita, caldissima. Questo è il colore azzurro, a faccia. Ecco, questa qua in tutti i giornali delle vostre case, in tutti i rotomani, è una delle marche più importanti per il trapunto. Noi o facciamo grandi marche o, come potete sempre osservare, abbiamo fatto tantissime marche, oggi rinunciamo. Oggi abbiamo avuto questa grande offerta, con lo sconto del 50%, vai col prezzo, 55 euro, oggi ne avete due. I colori sono questa qua, in blé, però voglio mostrarvi anche un'altra cosa. Non è che c'è l'antiscivolo, vedete. Dall'altra parte c'è un altro tessuto, sempre con l'azzurro. Sempre frutta, vedete. Guardate, sempre differente, quindi la potete anche girare e mettere dall'altra parte. Questo è un valore aggiunto, cioè non è che c'è l'antiscivolo, ma c'è anche, vedete, tessuto dall'altra parte. Abbiamo detto questo è il colore azzurro. Adesso andiamo a vedere quelli in colore glicine. Come vedete abbiamo scelto i vari colori. Abbiamo scelto quattro colori più belli di questa nota casa mondiale, perché qua parliamo di una nota, vedete, firmata. Ogni trapunto avrà il suo certificato di garanzia all'interno. Questa è quella glicine con tante strisce, vedete, all'interno, multicolor, bellissima. Guardate. E anche su questa, come vedete, ogni trapunto uscirà questo certificato di garanzia all'interno. Come vedete, e volevo farvi vedere, vedete, questo è un puro cotone al 100%. E non c'è l'antiscivolo, è doppia faccia. Anche questa qua, se vedete, andiamo a vedere, dopo la farò vedere per interno. Vedete, c'ha all'altra parte, vedete, sempre a fascia un altro colore. Quindi ogni trapunto è come se avreste a disposizione. Quattro trapunto. Quattro, con due trapunto avete a disposizione quattro colori diversi. Quattro trapunto. Quindi non c'è l'antiscivolo. Un mattinità lì di prestigio, di altissimo livello. Puro cotone al 100%. Questo è quello là, glicine. Vedete, ogni trapunto, vedete, c'ha il suo certificato di garanzia che vi cassa lì. Colore, puro cotone, super imbottita, mattinità lì di altissimo livello, di alta qualità. Vedete, questo è quello là, color glicine a fascia. Poi andiamo giù velocemente per farvi vedere tutti i colori e anche l'imbottitura. Vedete, questo è l'imbottitura. L'ho fatto due girate per farvi vedere anche l'imbottitura. Dove l'abbiamo stessa? Quella è quella in arancio. Vedete, questa è quella lì in arancio. Guardate l'imbottitura. Ma guardate la particolarità. Vedete, la particolarità. Massima dimensione. Massima qualità. Massimo pregio. Massima qualità. Grande firma internazionale. Ogni trapunto avrà il suo certificato di garanzia. Pensate, con una trapunta come questa abbiamo avuto noi il piacere di questa grande casa di presentarla oggi attraverso questa grande emittente. Quarto colore. Abbiamo visto quelli in azzurro, quelli in glicine, quelli in arancio. Adesso andiamo a vedere quello rosa forte. Molto bello. Vedete, è quasi un fucs. Guardate quanto è particolare. Che bellezza. Gentili amiche miei. Quindi abbiamo scelto sia quelle dei maschi che quelle per le ragazze. Abbiamo il celeste, il giallo che le potete usare. Poi abbiamo il glicine e il rosa. Che è veramente uno spettacolo. Quindi, come vedete, vi abbiamo fatto attendere un poco. Anche questa qua, sempre modello frutta. Anche questa qua ha colori forti, in rosa. Eccolo qua. Ci abbiamo dall'altra parte, non l'antiscivolo. Sempre stessa casa. Un altro tessuto, sempre bello, a fasce. Quindi avete due colori per ogni trapunta. Come vedete, abbiamo fatto vista. Colore azzurro. Più abbiamo girato la trapunta, per farvi vedere. Eccolo qua, dall'altro lato. Vedete? Guardate, abbiamo un'altra tinta che va sempre sull'azzurro. Vedete? A fasce. Sempre modello. Sempre frutta. Sempre lo stesso tessuto. Non è che cambia il tessuto. Poteva mettere l'antiscivolo. Quindi è un pregio in più. Che in ogni trapunta avete due varianti di colore. Quindi due opportunità. Azzurra. Quindi ogni settimana potete girarla dall'altro lato. Potete, vi servono due uguali. Per noi non c'è assolutamente problema. Voglio dire, quello che conta più essenzialmente è la qualità del prodotto. La massima misura del prodotto. I colori che portano una bellezza veramente particolare. Guardate lo spessore di questa trapunta. È super imbottita. È caldissima. Di un cotone originale. È bello. Non è un misto. Ma parliamo di un puro cotone trapuntato ad onde. Più inoltre a questa è quella lei in arancia. Come vedete, voi potete scegliere due uguali. Una diversa dall'altra. Ma avete quattro opportunità di colori. Perché dopo che vi siete stancati magari di una settimana di avere un colore, la mettete al rovescio. Oggi, voglio dire, la casa me ne ha dato poche. Quindi segnatevi il nostro numero telefonico perché è un'offerta straordinariamente a ribasso perché ne ho pochissime. Mi ha dato l'opportunità di questa offerta lancio di grande prestigio internazionale, di un puro cotone eccesso, di alta qualità, di una nota casa mondiale di cui ogni trapunta singolo si vendeva, lo sapete bene, sui 60-70 euro. Quindi poi un'altra cosa, stanno grandi feste, abbiamo feste dei bambini, ci appuntiamo ad un appuntamento importante per fare dei regali. Quindi ci avviciniamo a tappe veramente importanti. Quindi come bisogna prevenire e quindi sfruttare l'offerta. Quindi io invito soprattutto le nonne che in questo momento vogliono preparare i regali per le proprie nipotine. Nipotine avete a disposizione un risparmio di oltre il 50% per chi prenota questa trapunta. Abbiamo firma, qualità di tessuto, un mattino italico, colori esclusivi perché li fa solo questa casa qua. E poi un'altra cosa importante, avete sia le possibilità per i maschi che per le femmine. Oggi l'azzurro, vedete, è firmata, una sola trapunta la pagavate 60 euro. Oggi attraverso questa grande emittente, sfruttando un marchio importante che ci ha dato l'opportunità di un'offerta strabiliante, perché veramente strabiliante, avete quattro possibilità di colore, arancio, glicine, celeste, rosa, di cui poi, vedete, ogni trapunta c'è il rovescio. C'è il rovescio, quindi hanno evitato di mettere l'antiscivolo, ma è un tessuto colorato, stampato, di alto livello, di un alto colore. Poi un'altra cosa importante, oltre ad essere super imbottite, ve l'abbiamo fatto vedere per i letti singoli, per quanto c'è anche, vedete, il bordine, vedete, guardate il bordo della trapuntatura, abbiamo un bordo a triplo punto, triplo punto col risvolto, che va, e poi andiamo a vedere come scende sul letto, guardate che capolavoro, questo è il rovescio, vedete, il rovescio di questa qua, è veramente qualcosa di spettacolare. Un'altra cosa ancora, volevo dirvi, oggi abbiamo voluto dire a tutto il nostro pubblico, ancora una volta, perché tante di voi ci abbiamo fatto le proposte quasi sempre matrimoniali, noi abbiamo detto oggi, signore, un po' di pazienza, nel momento in cui abbiamo una grande offerta, di un grande marchio, di una grande opportunità, dandovi qualcosa di italiano, di bello, di importante, con colori vivi, colori belli, misure massime, guardate il bordo della trapunta, fai vedere il bordino della cucitura che unisce i due tessuti, ma là parliamo di vedere un tessuto, come avete la possibilità, con il tessuto, non ha veramente caratteristiche uniche, perché se la girate, vedete, è fatto a colonnina, abbiamo il doppio risvolto, il doppio risvolto con la doppia trapuntatura, e quindi lo stesso tessuto, vedete, è cucito da ambo le parti, quindi avete l'opportunità, anche se la girate, non c'è una cucitura fatta un po' non elaborata, ma è una cucitura fatta, vedete, a risvolto, che è uguale per tutti e due lati, in modo che anche se voi la girate, avete sempre la stessa caratteristica sulle rifiniture. E allora io vado ancora una volta, invece di una 55, oggi, trapunta singola, massima dimensione, su doppia imbottitura, doppio colorazione, sia da un lato che dall'altro, colore azzurro, vedete, con la frutta all'interno, per i maschietti, bellissima, che poi, abbiamo detto, anche questa qua azzurro, come abbiamo fatto vedere, quella arancia, quella là, in rosa, ha la doppia, vedete, lavorazione, come vedete, guardate, quindi tessuto e la rifinitura che vi facevo vedere, osservare prima, guardate, lo stesso tessuto, la cucitura a cordoncino, vedete, a cordoncino, che va ancora una volta a dimostrare la qualità, vedete, di questo tessuto, vedete, è veramente spettacolare. Allora, volevo dirvi, oggi abbiamo voluto dire ancora una volta, la Jedi Fratelli Amato, quando tratta il pubblico, lo tratta nella maniera, oggi avete uno sconto di oltre il 50%, perché un attrapunto di questa forza, con doppio tessuto, sia da un lato che dall'altro, la pagavate 60 euro per uno, oggi ne abbiamo messo due a disposizione del tubblico, quindi abbiamo visto ancora il colore azzurro, bleh, avete fasci in bleh chiaro e azzurro chiaro, con tutta la frutta all'interno, poi abbiamo la disegnistica, vedete, questa qua, glicine, guardate quanto è bella, ma sono colori nuovissimi che adesso sono arrivati, guardate, poi abbiamo la ditta sfumata jeans, vedete, è bella, vedete, come l'altra, quella là in azzurro, guardate com'è particolare, eccola qua, poi abbiamo, vedete, dall'altro lato, andiamo a vedere, guardate quanto è bella, io oggi vi sto mostrando tutto, possiamo far vedere, guardate che bellezza, andiamo man mano a vedere i colori di quest'altra trapunta, è spettacolare, vedete, guardate i colori belli, trasversali, belle, colori colorativi, io voglio dire in questo momento, vedete, col 50 e passa per cento di sconto, tutte le linee sono occupate, quindi segnatevi il nostro numero telefonico, perché oggi un modello di trapunta super imbottito, doppia faccia, super modello jeansato, andiamo a vedere, questo è il modello con jeans, vedete, firmato, vedete, ha le tasche, le finte tasche, quindi frutta, vedete, con l'arancio, guardate com'è particolare, questa qua, questa è quella in arancio, bellissima, particolare, eccezionale, anche questa la potete usare anche per i maschetti, colore arancio, oltre ad avere, ogni trapunta avete in una busta a sé, col certificato di garanzi, che vi garantisce puro cotone al cento per cento, che è fatto da una casa italiana, misure massime, vedete, il cordoncino a doppio risvolto per dare, poi abbiamo il colore rosa, vedete, sul fuchs, bellissima, anche questo qua, è veramente bella, vedete, una più bella dell'altra, abbiamo scelto quattro colori doppi, di questa nota casa mondiale, importante, di alto prestigio, di spettacolarità unica, oggi, in questa puntata speciale, attraverso questa grande emittente oggi, che raggiunge tutta la campagna, il basso latte, adesso vi facciamo vedere anche questa rosa, anche dall'altro lato, per completare l'opera, vedete, frutta, una casa importante, un puro cotone, volevo dirvi una cosa, anche le rifiniture, vedete, sul bordino, al momento che voi la girate, guardate, è fatto a cannolette, quindi che va bene, sia dall'una che dall'altra parte, con il triplo punto, per rinforzarle, abbiamo, diciamo, la trapuntatura ad onda, quindi quattro colori, abbiamo visto, andiamo a vedere, arancio, rosa, celeste, e questa qua, glicine, quattro colori, con doppia tinta a disposizione, ripeto, una grande firma, una grande importanza, una grande qualità, un grande prestigio, un nome, una garanzia, bolletto singolo, ce l'avete chiesto in tante, ma quante fate le singole, vi abbiamo portato la qualità, la misura, i colori, segnatevi il nostro numero telefonico, ripeto che io, ne ho avute pochissime, ne ho avute pochissime, oggi, vedete, i telefoni sono tutti occupati, però io accontenterò, tutte le telefonate, che mi arriveranno oggi, perché non facevamo una pubblicità, per poche telefonate, quindi per distribuire, oggi invece di una trapunta, a questo prezzo, se ne avete due, però con la possibilità, di a doppia e duple faccia, quindi avete un disegno da un altro, e un altro da un altro lato, quindi come se avessi a disposizione, quattro trapunte, più di questo non potevamo fare, abbiamo fatto uno sconto, di oltre il 50%, una firma, una garanzia mondiale, perché questa è una casa mondiale, che fa solo trapuntature, per letti singoli, importantissime, quindi in tutto il mondo, vedete i maggiori, ecco, dei secondi, eppure, internazionale, vi propongono questa casa, per i lettini, oggi, in questa puntata speciale, GEA, attraverso questa grande emittente, segnatevi il nostro, punto 20, un'altra cosa, volevo dire, alle nonne, alle mamme, agli zii, che vogliono fare dei regali, ai propri nipoti, avviciniamo a degli appuntamenti, importanti, cogliete questa occasione, perché, veramente, da non lasciarsela, assolutamente sfuggire, perché oggi, invece di 120 euro, per due trapunti, pagate 55 euro, per tutti e due, oro mai più, guardate il tessuto, più bello ancora, vedete, delle fantasie, veramente, eccezionali, belle, ripeto, i colori ne sono quattro, ma diventano otto, perché dall'altra parte, vedete, guardate qua, la bellezza, l'allegria, la felicità, l'arcobaleno, su questa qua, i colori magnifici, belli,